È stato un lungo lavoro che ho voluto fortemente perché ho sempre creduto in questo vino e in particolare in questi anni ho avuto la possibilità, grazie anche a approfondimenti, seminari che ho avuto la fortuna di poter realizzare, ho recuperato diverso materiale e quindi sono riuscito ad un certo punto della mia vita a mettere in fila tutte queste informazioni come contributo per il territorio perché ho recuperato diversi aneddoti, diverse documentazioni anche storiche che ho pensato di condividere creando appunto una pubblicazione. Il focus è appunto legato a quello che sono diversi aspetti che entrano nella denominazione di origine, in particolare quindi si parte dalla storia perché il forte legame della viticoltura è da sempre stato presente nei secoli nella Valata del Metauro e ho voluto quindi raccontarne le peculiarità con ricerche svolte in diverse biblioteche del territorio che mi hanno portato anche a recuperare dei documenti storici in alcuni archivi di Stato, Pesaro, Fano, Manca Ravenna ad esempio perché ci sono delle notizie storiche che appunto legano alcune chiese e alcuni avamposti monastici a questo territorio ravennate. Il discorso del primo interprete di questa denominazione che è stato Guglielmo Anzilotti a cui è stata nel libro dedicata una intervista che appunto celebra l'opera di quest'uomo che ha iniziato a lavorare sul bianchello alla metà degli anni 60, quindi tanto tempo fa ormai, e ha portato con il suo lavoro il bianchello del Metauro a confrontarsi con i grandi vini d'Italia e del mondo alla metà degli anni 70. E' interessa in particolare i tanti paesi che sono raccontati nel disciplinare di produzione e in particolare nel capitolo dedicato al disciplinare di produzione. Sono 18 paesi e da Fano si va verso l'interno, quindi si arriva fino al territorio urbinate e in particolare è stata fatta anche, e qui arriviamo al discorso dell'approfondimento territoriale, un'analisi su quelle che sono le peculiarità climatiche e geologiche del comprensorio. Ci sono delle diversità analizzate anche grazie al lavoro e alla passione di Giampaolo Baldelli, che è un geologo che si è prestato a sviluppare questa analisi sulla geologia del territorio e peculiarità che mettono in luce delle diversità, diversità che unite alla parte dei vignaioli, quindi alla parte che viene raccontata in termini di viticoltura, in termini di enologia, che ovviamente sono pratiche che vengono realizzate attraverso l'esperienza umana, quindi il fattore umano, portano a una gamma di vini da uve biancame, in questo caso prevalentemente che si sposano con grandi piatti della gastronomia territoriale e con numerose anche interpretazioni di questi piatti. Quindi una gamma di vini che può decisamente affrontare la gastronomia e quindi per conoscerli, per approfondire le storie anche di chi lavora sul territorio e i vignaioli che quindi da sempre ci credono e dedicano energia a questo prodotto, è stata fatta l'ultima parte che segue quello che è il tema anche attuale dell'enoturismo, perché offre 8 itinerari che raccolgono 25 aziende che sono state censite entro la metà del 2021 e quindi offre la possibilità con questi itinerari di poter andare a scoprire sul territorio le storie dei vignaioli e delle famiglie che lavorano su questo prodotto. Il libro poi è stato anche illustrato da Francesco Seresi che è un giovane talentuoso che ha portato il suo contributo dando creatività a questa pubblicazione.